Oggi lunedì 28 di agosto era previsto il cambio meteorologico dopo la festiva che ha contraddistinto l'ultima settimana è atteso un calo di temperatura in tutta la regione Marche, era prevista anche un allertavento quella che non era previsto era l'ennesima mareggiata di questa estate ci troviamo ad esempio sul litorale di Levante di Pesaro, particolarmente attaccato dall'ennesima onda anomala che ha risucchiato buona parte dell'arenile con tanti ombrelloni inghiottiti in un lunedì di minor afflusso sulle spiagge ma sicuramente di diversi disagi per gli operatori balneari Non c'era allerta, c'era solo allerta vento ma il vento non c'è stato e come già è stato in passato praticamente luglio, giugno e anche in agosto dal nulla l'alta marea è venuta su fino all'ottavo ombrellone e ci riusciamo praticamente Io chiedo personalmente interventi non sulle scogliere come è stato fatto ma penso più su una cosa della marea o comunque dell'erosione che non è l'intervento delle scogliere risolutivo Avete avuto danni? Non abbiamo avuto danni fortunatamente, solo l'acqua fino all'ottavo ombrellone tirare su i lettini, siamo a fine stagione, la stanchezza si fa sentire e abbiamo avuto l'erosione dei primi ombrelloni che tireremo via e che ancora la stagione non è finita e quindi careremo danni allo stagionale Grazie a tutti Grazie a tutti